Sì, dopo incontrerò appunto i ragazzi che mi stanno aspettando per fare questo meet and greet ed è la prima volta che sono qua al Giffoni e spero che sia bello come me l'hanno raccontato tanti miei colleghi e amici sono già venuti quindi sono contento questa volta di esserci io Beh, è veramente una cosa molto bella nel senso che soprattutto in questo periodo che si tende anche a fare tutta questa critica sulla diversità eccetera avere un evento così importante poi a livello italiano che appunto rende tutti come dovrebbe essere uguali è molto bello, sono contento Ma allora io quello che consiglierei è soprattutto di cercare la propria identità In questo periodo storico musicale si tende sempre a guardare quello che fanno gli altri e cercare di assomigliare al tuo cantante preferito o all'artista che ascolti di più e credo che questo sia molto sbagliato soprattutto per i nuovi artisti perché quello che poi fa la differenza è la tua personalità cioè quello che tu trasmetti nelle canzoni è quello che tu hai vissuto cioè devi parlare della tua vita non della vita degli altri Poi un'altra cosa che mi sento di consigliare vedo anche molto spesso che la musica in questo momento è sinonimo di successo è sinonimo di soldi, di fama proprio e io credo che non sia poi esattamente il modo con cui iniziare a fare musica io, quello che dico sempre, sono molto contento del percorso che ho fatto io perché il mio è stato un percorso che è stata una scalata non è che il giorno prima non ero nessuno e il giorno dopo ero una superstar ho visto tante cose, ho vissuto tanti momenti difficili e tanti momenti belli e credo che questo poi ti fa diventare un artista che perlomeno tieni i piedi per terra perché sa cosa vuol dire la strada che hai fatto per arrivare ai successi ai dischi di platino eccetera quindi quello che consiglio prevalentemente è di non avere fretta e di godersi il percorso perché è più importante poi della meta secondo me grazie a tutti